Musica Cari telespettatori eccoci ancora insieme, siamo in diretta e con noi qui in studio Stefano Zara ben rientrato, ben ritornato con noi, anzi ha continuato a lavorare quindi non è rientrato da nessuna meta lontana, ci andrà per aggiornarci anche su altri. Ma manderanno. Dove, dove? Lontano. No dai comunque c'è sempre da curiosare anche in altre destinazioni, esperto di finanza e noi di finanza e di economia vogliamo un po' fare il punto della situazione. Con questo nuovo governo ci sono stati andamenti altalenanti, tenerne conto o non tenerne conto perché poi sono tanto umorali ci sembra. Sì, diciamo che... C'è lo spread, boh... Noi abbiamo, lo spread è sta cimice maleodorante che abbiamo ma è dovuto al fatto che il nostro debito ce l'hanno gli altri e nel momento in cui tu hai dei debitori questi si preoccupano del tuo Stato, anzi dei creditori, questi si preoccupano del tuo Stato di salute. Ha strumentalizzato un po' questo benedetto spread, cioè nel senso che è in mano a determinati monopoli che vogliono farci intraprendere certe azioni e quindi ci minacciano in questo modo e avevano magari nelle loro trame determinati esponenti politici o partiti politici che lo secondavano pur di farlo andare in un certo versante. Sì, è diventato uno strumento di pressione politica e insomma l'abbiamo visto non molti anni fa, quello che è successo alla Grecia, quello che è successo a tutti i paesi periferici in Spagna, Portogallo, noi, la Grecia, i famosi PIX, sono paesi in cui lo spread è diventato una specie di manometro della pressione dell'Unione Europea sulle scelte anche di economia e finanza. È un forte condizionamento insomma, condizionamento perché indubbiamente se tu non puoi disporre liberamente delle tue risorse perché ne hai poche e perché sei molto indebitato, devi sostanzialmente fare quello che gli altri ti dicono di fare. Ecco, ma ci sono paesi al mondo più indebitati di noi, ovviamente, no? Tu ti porto un esempio da Giappone che è un debito di quattro volte più grande del nostro, 8 mila miliardi contro i 2 mila e 300 miliardi del nostro debito. È altrettanto vero che il 90, più del 90% di quel debito è in mano a loro, è un debito che ha una natura domestica, tra il 5 e il 10% di quel debito è in mano di investitori stranieri. Ecco perché il decennale giapponese ha un rendimento più basso del decennale tedesco, siamo allo 0,3. Quindi mantenendo un tasso molto basso riescono ad avere una spesa per interessi molto contenuta e avere un debito che in mano a loro stessi non hanno. Il debito giapponese è considerato safe haven, cioè un paradiso sicuro. In momenti di grande crisi finanziaria lo yen è un porto d'approdo per le finanze internazionali. Ma questo è perché loro sono autonomi, indipendenti, isolati, isola isolata? Sostanzialmente perché il debito è in mano a loro stessi. E quindi potrebbero anche annullarlo volendo? Beh, sostanzialmente ci sono quelli che dicono che essendo aumentati in quel debito a questo modo in mano alla banca centrale giapponese stessa, questo sostanzialmente annulla di fatto l'incidenza stessa del debito. Noi viviamo una situazione completamente diversa, abbiamo bisogno di emettere un tasso che sia ancora... abbiamo bisogno da una parte di dare sicurezza e garanzia sul fatto che siamo dei debitori solventi, dall'altra parte abbiamo mandato un regime di tassi talmente interessante che comunque faccia sottoscrivere sempre le nuove emissioni. E adesso come sono questi benedetti di tassi? Insomma, noi nel momento in cui il spread cresce dobbiamo dare più soldi ai nostri creditori, nel momento in cui il spread è più contenuto, ma il decennale si muove sempre intorno a due punti a mezzo, due punti a sette, tocca il 3% nei momenti in cui lo spread diventa più aggressivo. Finché abbiamo Draghi, no? Finché abbiamo Draghi che termina, terminerà le azioni di sottoscrizione del debito a settembre, ma continuerà a riacquistare poi le emissioni che man mano scadono. Quindi sostanzialmente la liquidità è garantita al sistema ammino per tutto il 2019. Comunque BCE è lì e vigila, neanche poi l'unica preoccupazione è che si dice che un cambio ai vertici della BCE che sarà per il 2019 potrebbe comportare un cambio di rotta nelle scelte e quindi apre un'altra parentesi che primamente il mercato non prezza. Ecco, però esatto, le elezioni europee prossime, in che modo possono andare a condizionare gli andamenti finanziari e certezze da una parte o dall'altra? Un'Europa più verso destra o un'Europa più appoggiata alla Germania attuale? Potrà condizionare sicuramente in maniera pesante, perché a distanza di anni stiamo ancora, c'è anche una perdita di leadership nella gestione Merkel, no? Dopo il quarto mandato e la fine dell'era Merkel si aprirà una nuova leadership in Germania e quindi di che natura sarà la nuova leadership in Germania, che peso potrà avere nelle scelte che si prenderanno in futuro, che tipo di direzione prenderà l'Europa, sono tutte cose ancora, sono delle incognite, il mercato non prezza queste incognite, se le prezzasse viveremo situazioni di turbulenza ancora più ampie, ancora più grandi. Sì, però mi sto chiedendo, sembrava che le elezioni in Danimarca, cosa sono state fatte di recente, no? Potessero in qualche modo andare a cambiare l'assetto europeo se spostate da una parte o dall'altra? Effettivamente uno spostamento più verso destra c'è stato, la sinistra ha tenuto in qualche modo, tra virgolette, anche se ha raggiunto i minimi storici dopo cento anni, mai voti così bassi, però questo non ha cambiato niente, per esempio? Siamo in una deriva, proprio come le grandi navi, quando hanno una rotta segnata in precedenza e continuano nel loro abbrivio, non è successo nulla che possa far cambiare la rotta in maniera percepita e in maniera decisa, si va avanti finché non succederà qualcosa che richiederà un cambio di rotta, insomma, dal mio punto di vista dovrà succedere, siamo ancora in Europa in cui dovrà succedere, speriamo che scappi qualcosa di positivi, non sempre, non pensiamo in, anzi sono una persona portata ad essere ottimista, tutto quel potenziale che non siamo riusciti a esprimere e che è mantenuto soltanto a livello di unione bancaria e unione monetaria o sfocia in un'unione politica reale, quindi un Parlamento che decida le cose, quindi un Parlamento europeo che non sia espressione delle derive periferiche, portavoce di quello che dice ogni singolo paese, ma che decida le cose, che uniformi il sistema del fisco, la difesa comune, il controllo del territorio, la sicurezza, le tasse, che si parli di crescita lì e ovviamente con un occhio a ciascuna realtà singola, perché fare imprese in Italia è completamente diverso che farlo in Spagna, che farlo in Francia, che farlo in Germania, che farlo in Luxemburgo, perché i modelli di sviluppo sappiamo benissimo, sono completamente diversi, anche i consumi sono diversi, noi siamo sostanzialmente ora ancora e soltanto una unione monetaria, potremmo rimanere unione monetaria e basta ancora per molto, tutti dicono di no e quindi o si va, si passa il rubicone o comunque qualcosa bisogna fare, ecco perché tutto il mondo cresce, e l'Europa no, c'è una ragione sostanzialmente che noi siamo meno bravi, non sappiamo fare imprese, anzi, però gli altri non hanno questo tipo di nodi da sciogliere, anzi... Assolutamente, noi abbiamo quindi problemi un po' più grossetti da... Sì, ma a parte il Sud America che stai vivendo, nonostante il Sud America stai vivendo una fase forse la più problematica che io ricordi, una crisi politica devastata in Brasile, in Argentina una crisi finanziaria forte quanto la prima quasi, in Venezuela vediamo che la sta capitando... Quindi anche in Brasile adesso, nonostante se ne parli poco, non naviga in buone acqua... Ma per l'arte, un'idea, se un cliente venisse in banca e volesse acquistare i titoli brasiliani o argentini o cileni, non potrebbe acquistarli... Addirittura... Non potrebbe acquistarli perché le banche, rischio e reputazionale, non possono... Cioè, non voglio, si sono... si esprimono in maniera... ti sconsigliano in tutti i modi... Una volta tanto che sconsigliano qualche cosa, forse perché non ne sono direttamente... Beh, non hanno impedito però alcuni clienti di farsi male in queste settimane, perché il cliente è sempre alla ricerca di buoni affari, ha tralasciato di acquistare le azioni, le cose che sono andate meglio, in maniera più semplice... Ha tralasciato. Ha tralasciato. No, quelle cose buone che fanno bene, come in qualsiasi altro campo della salute, le lasciamo da fare e andiamo là subito dove percepiamo invece... Maggior rischio, pericolo... Dove abbiamo noi la percezione di portare a casa l'affare sicuro, quindi sono andati a comprarsi le obbligazioni ad alto tasso di interesse della Turchia, sono andati a comprarsi le obbligazioni ad alto tasso di interesse del Sudafrica, che ovviamente hanno delle fluttuazioni legate alla valuta molto forte. Obbligazioni messi da società con alta cedola, che vedi l'Astaldi che poi con la diatriba legata alla Turchia, l'Astaldi in un certo punto ha avuto o sta avendo problemi, speriamo li superi, per quello che riguarda la costruzione del ponte sul Bosporo, l'obbligazione di Astaldi è da 100 andata a 40. Obbligazione... Perché questa scelta di questo rischio da collarsi... Chi compra queste cose legge, si informa, magari anche chiede consiglio in banca, ma al di là di questo parte con un vizio di fondo, cerca qualcosa con un numeretto a destra il più alto possibile, quello del rendimento. Senza pensare che però... Ma è la stessa cosa che fa per i mercati immobiliari, si dice sempre, se le case avessero il prezzo attaccato, non c'è niente di più facile per noi che capire il mercato immobiliare. Compra la casa, da sempre, almeno fino a dieci anni fa, si era sempre rivalutata, anche oltre ogni più rosa e aspettativa, e soprattutto hai una percezione del prezzo che ricavi in maniera autonoma, non ha un prezzo che si aggiorna giorno per giorno come le azioni, come le obbligazioni, e quindi è la cosa più facile per te da capire. Tutto il resto invece è un mondo incomprensibile e lontano, perché dieci anni fa era facile capire anche quelli, perché le obbligazioni bancarie e i titoli di Stato erano semplici, erano un tasso, una durata, brutte sorprese, non ti potevano capitare, poi dieci anni fa tutto è cambiato, ma proprio tutto è cambiato, quel mondo non tornerà più, ma non è che un mondo finisce e c'è il baratro, è nato pian piano, ma in maniera sempre più importante, un nuovo mondo che va capito, perché se una cosa non funziona è come se chiudesse improvvisamente la quattro, ma te ne fanno un'altra a fianco, magari più bella e più comoda, ma io ho sempre preso la quattro, se adesso non c'è più, fai la tangenziale e ti perdi una giornata di strada o vai su un'altra autostrada, magari più veloce, con più servizi. Questa nuova autostrada è percorsa da pochi, questa nuova autostrada da cosa è fatta? Perché è percorsa da pochi? Perché è poco conosciuta? Perché è poco conosciuta, ma anche un po' per pigrizia, perché se ho sempre, cambiare abitudini non è così semplice, non è semplice per nessuno cambiare abitudini, soprattutto se il nuovo non è facile, non è una materia semplice, il nuovo è capire che non dobbiamo più essere risparmiatori italocentrici, capire che se viviamo in un paese che ha un mercato finanziario poco efficiente, non ostiniamoci a far sì che tutte le nostre scelte di investimento siano orientate in questo mercato, se è una cosa, la globalizzazione, se la globalizzazione uno dei vantaggi che la globalizzazione ci ha conferito è il fatto che noi possiamo mettere i nostri soldi, pochi o tanti che siano, in qualsiasi tipo, e averne un controllo pressoché totale. Ecco, allora questo intanto può essere un primo aspetto interessante, andiamo in pubblicità poi ne affrontiamo anche altri tra poco. Grazie. Grazie. Grazie.